Che bella l'America, strade larghe, e dino che sono stretti, ma su cazzone ancora viene, ancora viene su cazzone. Scusate, mister Mico? Eh? Oh, mister Mauro! Ah, Mauro, che non lo caffesi tu? No, 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 me lo bevo il caffè, ma sono mister Mauro da New York, come è stato Don Mico? Eh, insomma, venne qua e mi ha mandato a chiamare l'ambasciata, insomma. Avete fatto un buon viaggio? Vi hanno trattato bene? Buon viaggio, sì, 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 sì. Ah, understand, that's alright. C'era uno bello hostess, insomma. Certo, certo, caro Mico. Come mai mi hai chiamato? Eh, una questione d'onore. D'onore? D'onore. Di furto? Eh, diciamo furto, sì. Furto, furto, furto. Gli hanno fregato la targa di casa di mio cugino. Veramente? Certamente. è chiamato a mia. E solamente voi potete aggiustare questa cosa. Ah, sì. Ma voi sapete qui come vi sanno sentire a voi? Sì. Voi siete famosi con il soprannome Terramoto. Terramoto, è Terramoto Facifo. E mi raccomando, la deve pagare. La deve pagare sto carnuto come a voi. Ma scusate, che signor mio? Io mi ho chiamato. Ah, così, ma come mi hai pagato? Come lo vede? In dollari? In euro? No, in euro. In euro. E in euro sia. Prego. 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 3.500, 4.000, 5.000. Prendetela tutte. Tutte, tutte, tutte. Ah, che stene. Come mai. Ve lo dico pure cantando. La vera storia di Terramoto. Ah, davvero? Sì. E fatemi sentire. E fatemi sentire.